Steven non si è ad un passo dalla Roma. Dopo l'affare Malcom nessuno a Trigoria vuole sbilanciarsi troppo, ma sono i momenti chiave della trattativa tra il club giallorosso e il Siviglia, che hanno trovato l'accordo sulla base di 32-33 milioni, poco meno della clausola rescissoria del giocatore da 35. Da stabilire la parte fissa i bonus, ma dovrebbe essere tra i 28 e i 30 milioni. Al giocatore, 30 anni da compiere a dicembre, un contratto di 4 stagioni a 3,5 milioni più bonus. Campione del mondo, centrocampista centrale dal fisico imponente, portato al Siviglia proprio da Monchi, è appena diventato campione del mondo con la Francia, disputando 5 partite su 7, finale compresa. Dopo la sfida contro la Croazia si sono intensificati i contatti con la Roma, una trattativa non semplice, ma che potrebbe e dovrebbe essere chiusa domani, salvo sorprese, che al momento non sembrano previste.